Oggi siamo qui per questo approccio al design thinking nell'ambito della pubblica amministrazione. Ho noto l'effetto e soprattutto l'efficacia di questo modello organizzativo che punta la persona nel settore produttivo e quindi nel prodotto finale di quelle che sono le caratteristiche dinamiche che vengono analizzate fino al raggiungimento dell'obiettivo e delle problematiche che vengono affrontate nel quotidiano da ogni produttore. E anche per quanto concerne l'innovazione, di per sé lo stesso design thinking pur se applicato all'innovazione è già di per sé innovazione. Oggi siamo qui per parlare con degli esperti e per capire in che misura possiamo affrontare il design thinking e soprattutto utilizzarlo nell'ambito della pubblica amministrazione e soprattutto per quanto concerne i processi.